Il vasto Girardi supera il Trastevere e sale al secondo posto del girone F. Se inizialmente sembrava essere insidiosa la seconda classificata, gli altomolisani riescono ad archiviare la pratica senza problemi. Al terzo minuto Alonzi tenta il tiro in rete che viene respinto sui piedi di Tortolano. Nessuna difficoltà per Petriccione ed ancora questa volta è Bertordi al fare pressing sui padroni di casa. Corre il sesto rimessa lunga del numero uno altomolisano. La palla giunge a Fiori che è oltre la metà campo. Il numero sette serve Hernandez con un tiro che sembra troppo lungo ed invece ce la fa e riesce a servire Gallo nell'area piccola. Il cui tiro da prima bacia il secondo palo e poi si infila in rete. Vasto Girardi uno tra Stever e zero. Al ventunesimo ci riprova Bertoldi ancora un nulla di fatto per i laziali. Al venticinquesimo punizione battuta da Massimo, palla sulla sinistra per la conclusione al volo di Tortolano, palla sull'esterno della rete. Al ventottesimo il direttore di gara Mario Di Loreto della sezione di Terni estrae il cartellino giallo per Crescenzo. Il numero otto però inveisce contro l'arbitro di default l'espulsione. Il Trastevere gioca in inferiorità numerica. Siamo al trentacinquesimo, Hernandez cerca il suo momento di gloria. La palla termina però sul fondo. Sul finire della prima frazione di gioco altissima la conclusione di Giordani. Nella ripresa Mister Cioci opta per un doppio campio ma a soli tre minuti di gioco cross basso di Fiori dalla destra sul pallone si avventa Grandis che conclude a lato da un'ottima posizione. Dopo pochi minuti viene assegnata una pericolosa punizione dal limite dell'aria sul punto di battuta. Carta Gallo mette in angolo salvando la sua porta. Al decimo assist di Grandis per lo russo l'azione si conclude con un nulla di fatto. Passata la mezz'ora grande occasione per i padroni di casa. Canale offre in profondità a Hernandez che mette al centro. Lo russo getta alle urtiche il pallone del 2 a 0. Al trentaseiesimo si fa vedere il trastevere azione personale di Bertoldi che viene fermato da Petriccione in uscita. Velate proteste dei laziali ma il direttore di gara fa proseguire il gioco. Corre il trentanovesimo e Capitano Ruggeri a battere il calcio di punizione questa volta dal limite dell'aria. Supera la barriera ma la palla muore sul fondo. Ultime battute sul finire del match. e Hernandez a tagliare l'aria ed aprire per Sergio. Parata magistrale di Sembrini. E poi ancora Hernandez per Ciocca che non riesce a controllare.